Io sono Gianni Pietra Persia e sono un ricercatore dell'Università di Firenze, in particolare sono un chimico ma non è importante in questa sede. Sono membro anche del comitato organizzatore di questa iniziativa e oggi spetta a me il gradito compito di fare gli onori di casa, quindi di darvi il benvenuto sia personale sia ovviamente dei vertici dell'Università di Firenze, quindi il benvenuto da parte del rettore, il professore Alberto Tesi e da parte del professor Carlo Sorrentino che è coordinatore del comitato organizzatore di queste iniziative. Questo ciclo di lezioni, questa iniziativa è stata fortemente voluta dal nostro Ateneo proprio per cercare di avvicinare l'Università, quello che viene fatto all'Università ai cittadini, anche perché poi i cittadini sono quelli che finanziano l'Università pubblica. Ovviamente un ringraziamento va anche a chi ha reso possibile le aperture straordinarie di domenica, quindi al personale tecnico e amministrativo che si è reso disponibile per permettere la realizzazione di queste iniziative. L'Università di Firenze è la principale istituzione culturale della nostra città, fate conto che l'anno scorso ci sono state circa 400 iniziative direttamente promosse dalla nostra Università, quindi più di una al giorno, o da ricercatori e professori dell'Università di Firenze o anche da parte degli studenti, che ovviamente sono una componente fondamentale dell'Università di Firenze. Senza studenti probabilmente non ci sarebbe neanche motivo dell'esistenza dell'Università, però nonostante queste evidenze, quindi di ricaduta anche sul piano delle istituzioni pubbliche o comunque sul piano sociale, questo ruolo spesso dal cittadino non viene percepito, forse perché spesso viene anche dato per scontato. Allora questa iniziativa è di permettere di farvi vedere quello che quotidianamente si fa all'interno del nostro Ateneo. Quindi è stato pensato questo ciclo di 12 incontri, perché 12 era il numero delle vecchie facoltà, ora vabbè sono diventate scuole, sono diminuite, sono diventate 10, e quindi di presentarvi delle lezioni, delle relazioni, delle conferenze su argomenti che si spera di interesse generale. Ma veniamo adesso all'argomento della lezione di oggi, che credo sia di interesse, anche perché vedo la sala praticamente piena. La relazione di oggi, come tutti sapete, è tenuta dalla professoressa Caterina Dinnella, che affronterà l'argomento mangiare sano e mangiare bene, quindi breve curriculum della relatrice di oggi. Caterina Dinnella è ricercatore confermato presso il Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, in sigla GESAF, dell'Università degli Studi di Firenze. È laureata in Scienze Biologiche ed ha conseguito un dottorato di ricerca in biocatalisi applicata e fermentazione industriale. Quindi ovviamente ha iniziato la sua attività di ricerca, che l'ha portata nel 1996 a essere ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi della Basilicata a Potenza. Poi nel 2003 invece si è trasferita verso la Facoltà di Agraria dell'Ateneo Fiorentino. Nel 2000 è stata Visiting Scientist presso il Center for Advanced Food Research della Western Sydney University in Australia e ha coperto, quindi nel corso della sua carriera, diversi corsi universitari, tra cui industrie dei prodotti di origini alimentari, analisi chimiche enologiche, analisi dell'uva e dei vini. Dal 2003 invece è titolare del corso di Analisi Chimica e Fisica dei Prodotti Alimentari per il corso di laurea in Tecnologie Alimentari. Però di cosa si occupa nella sua attività di ricerca? Spendiamo due parole. Caterina svolge il proprio lavoro di ricerca presso un laboratorio di analisi sensoriali del GESAF. L'attività di ricerca verte sullo studio delle proprietà sensoriali dei prodotti alimentari e della loro relazione con i risponsi edonici da parte del consumatore, sui meccanismi di percezione delle proprietà sensoriali critiche per l'accellattabilità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento alla stringenza e all'amaro e sull'implementazione dei metodi di valutazione ed interpretazione dei risponsi sensoriali acquisiti con metodi descrittivi dinamici. È inoltre membro della società italiana di scienze sensoriali. Però io non voglio abusare della vostra pazienza anche perché ovviamente non siete venuti a sentire me ma a sentire la professoressa Dinella e quindi le passo la parola. Giusto due ulteriori parole, una comunicazione di servizio se volete. Dopo la lezione ci sarà dello spazio dedicato a domande da parte vostra e ovviamente risposte da parte della professoressa. Io sarò presente con microfono alla mano quindi vi prenoterete, mi farete scennio, io vengo da voi. Se però volete, data la possibilità anche di mandare domande via sms. Io ho un telefonino di servizio che mi è stato dato e voi potete mandare, magari se siete particolarmente timidi, un messaggio anonimo via sms al seguente numero che è comunque riportato sui cartelli nella stanza, 338 52 22 346. Grazie ed ora andiamo ad iniziare. Prego Caterina. Allora intanto grazie della presentazione e soprattutto grazie a voi tutti che avete deciso di passare la vostra domenica mattina così a incontrare la nostra università. Iniziamo subito con una considerazione che penso qui tutti possiamo condividere, cioè il fatto che siamo tutti consapevoli che fra il nostro stile alimentare e il nostro benessere fisico esiste una relazione molto diretta. Tant'è vero che in generale l'attenzione di tutti è molto aumentata nei confronti di cibi che noi consideriamo salutari. Quindi quando scegliamo qualcosa da mangiare le classiche domande che ci facciamo, le nostre preoccupazioni sono per esempio circa il contenuto di grassi o di zuccheri, quindi circa l'apporto calorico. Ci preoccupiamo se contengono additivi ma ci facciamo anche domande più generali. Da dove viene il prodotto? Come è stato ottenuto quel cibo? Rispetto a questa esigenza che è molto diffusa c'è stata una grande risposta del mercato, di quelli che producono prodotti alimentari. Basta pensare a quante versioni light ci sono dei cibi tradizionali, quindi quanti prodotti abbiamo a disposizione a basso tenore calorico che ripropongono però prodotti con i quali siamo molto familiari. E poi il successo di tanti cibi che ha torto a ragione consideriamo naturali e quindi salutari. A che cosa pensiamo? Pensiamo per esempio all'agricoltura biologica, alle produzioni biologiche, al successo che ha il consumo di cibi integrali, oppure l'importanza di leggere in etichetta che un prodotto alimentare è senza additivi, oppure ancora il successo di alcuni sistemi di vendita che chiamiamo a catena corta, dove il luogo nel quale il cibo è stato prodotto è molto vicino al posto dove viene venduto. Accanto a questa grande attenzione, quindi per l'aspetto salutistico del cibo, non possiamo non leggere un fenomeno del tutto opposto. Adesso se riesco a far andare la diapositiva. Quindi un fenomeno del tutto opposto dove invece siamo attenti al cibo che è completamente disgiunto dall'aspetto nutrizionale e dall'aspetto salutistico, ma invece il cibo è visto esclusivamente come piacere. Pensiamo al successo che hanno tanti ristoranti dove si cerca l'esperienza col cibo particolare, quindi cibi particolarmente raffinati e non siamo preoccupati del fatto di saziarci oppure no quando andiamo al ristorante, quindi neanche a questo tipo di ristoranti, quindi non c'è neanche l'aspettativa di soddisfare l'esigenza fisiologica dell'appetito. Oppure pensiamo al successo di tante trasmissioni televisive dove il semplice fatto di saper preparare del cibo buono diventa il fattore premiante, il fattore di successo. Oppure pensiamo al fenomeno del turismo enogastronomico largamente diffuso, il successo di libri che trattano di cucina e così via. Quindi abbiamo queste due tendenze opposte che possiamo riassumere in quello che potremmo definire il dilemma dell'onnivoro moderno. Noi siamo onnivori, quindi diciamo dal punto di vista evolutivo abbiamo dovuto, siamo sempre stati messi di fronte alla scelta di decidere cosa mangiare. Il nostro antenato onnivoro quando doveva scegliere cosa mangiare sceglieva il cibo che per il suo organismo rappresentava il miglior beneficio possibile. E qual era il miglior beneficio possibile? Il più grande apporto energetico possibile. Evidentemente noi viviamo in una società molto diversa dove non abbiamo il problema dell'accesso all'energia con il cibo. Quindi il nostro dilemma quale diventa? Il nostro dilemma di onnivori moderni e l'opposizione che apparentemente viviamo in maniera molto forte fra l'aspetto salutistico del cibo, quindi la preoccupazione che ci debba fare bene e invece una continua ricerca di piacere nel consumo del cibo stesso. E dobbiamo dire che anche adesso, cioè quando abbiamo questa grande attenzione verso gli aspetti salutistici, in realtà la ricerca istintiva del piacere del cibo è uno dei fattori più importanti che ci guida nelle nostre scelte alimentari. In altri termini, anche oggi, il cibo che viene consumato di più e più frequentemente è quello che ci piace di più. Evidentemente le motivazioni alla scelta, quando noi quindi siamo al supermercato e facciamo la nostra spesa, sono tante e sono molto complesse. Però possiamo riassumere quelle più evidenti. Sicuramente, prima di tutto, considerazioni di tipo pratico, quindi quanto costa, è disponibile la convenienza, cioè la convenienza d'uso, sicuramente le aspettative salutistiche, quindi che quel prodotto ci faccia bene a lungo termine, ma sicuramente ancora considerazioni di tipo etico. Siamo sempre più preoccupati dell'impatto ambientale che può avere il sistema produttivo di quel cibo, oppure per esempio abbiamo preoccupazioni circa il welfare animale. E infine la semplice curiosità, magari mediata da pubblicità e cose del genere. Queste sono le motivazioni che ci possono guidare alla scelta. Quindi noi scegliamo il prodotto, lo portiamo a casa e a questo punto lo mangiamo. E questo è il momento decisivo, perché se quel prodotto che abbiamo scelto non ci soddisfa dal punto di vista sensoriale, e voglio dire, le proprietà sensoriali del prodotto non ci sono gradite, cioè non ci piace il sapore, non ci piace il gusto, non ci piace l'odore, quel prodotto, seppur è scelto magari in maniera molto decisa, non entrerà mai più nel nostro carrello della spesa. Al contrario, se la prestazione sensoriale del prodotto è positiva, quindi siamo soddisfatti del suo sapore, del suo odore, della sua consistenza, ecco che il prodotto diventa accettato. Che cosa vuol dire? Che noi lo preferiamo e quel prodotto è molto probabile che possa entrare, che possa essere nuovamente acquistato e quindi entrare, diciamo, in maniera regolare nel nostro carrello della spesa. Fatte queste poche considerazioni, la cosa sulla quale dobbiamo a questo punto riflettere è la seguente. Visto che le cose stanno così, è davvero logico pensare che il piacere che noi cerchiamo nella ricerca del cibo sia qualcosa di accessorio, cioè quasi una debolezza alla quale dovremmo imparare a resistere a favore invece dell'aspetto salutistico. In realtà le cose sono molto complesse e la prima domanda, la prima considerazione che dobbiamo fare è che noi siamo proprio progettati per fidarci della nostra esperienza sensoriale. Sono i sensi che ci guidano in maniera istintiva, perché questo dal punto di vista evolutivo ha rappresentato un vantaggio, sono i sensi che per via istintiva ci guidano verso il cibo che per il nostro organismo rappresenta il miglior beneficio possibile. Questo non deve stupire, perché possiamo pensare ai nostri sensi quasi come delle sentinelle che decidono se qualcosa può entrare all'interno del nostro organismo perché ci fa bene, oppure decidono di evitarla, perché in realtà all'assunzione di quel cibo può corrispondere un rischio. Quindi non è strano che il piacere che noi traiamo dai sensi sia una motivazione così importante al consumo del cibo. Cerchiamo quindi adesso di capire com'è che si sviluppa la preferenza. Il meccanismo, se volete, nella sua essenzialità è molto semplice. Noi mangiamo qualcosa e percepiamo le proprietà sensoriali del prodotto, quindi come dicevo prima, il gusto, l'odore, il sapore, la consistenza e poi che cosa succede? Abbiamo un'esperienza post-ingestiva, chiamiamola, quindi che segue l'assunzione di quel prodotto. Ad esempio l'assunzione di quel cibo con quelle proprietà sensoriali ha soddisfatto un fabbisogno energetico. Nel complesso quindi l'esperienza post-ingestiva è positiva. Questo genera un ritorno come dire positivo, il nostro organismo dice ok, ok a cosa? Ok a quel prodotto alimentare in particolare e in generale alle proprietà sensoriali che noi abbiamo sperimentato con quel prodotto, quindi a quel gusto, a quel sapore, a quell'odore, a quella consistenza. Al contrario, se il meccanismo funziona, cioè noi mangiamo qualcosa, percepiamo le proprietà sensoriali del prodotto e questo qualcosa genera un'esperienza post-ingestiva negativa, per parlare in maniera molto semplice, quel prodotto alimentare magari ci fa male, questo genera un meccanismo altrettanto forte di rifiuto per quel prodotto in particolare, ma anche per le proprietà sensoriali che noi abbiamo sperimentato mangiando quel prodotto. Quindi in realtà le proprietà sensoriali di un prodotto alimentare rappresentano un segnale molto forte per il nostro organismo che il nostro organismo decodifica in termini di ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male. Quando parliamo di proprietà sensoriali parliamo di tante cose, ma voglio focalizzare la vostra attenzione sui gusti. Noi abbiamo a disposizione cinque gusti fondamentali che sono, come sapete, immagino, il dolce, il salato, l'amaro, l'acido e poi il famoso quinto gusto, l'umami. Se ci pensate, i gusti sono relativamente pochi, solo cinque. Ci possiamo chiedere il perché. Il perché di questo numero ristretto di gusti risiede nel fatto che il segnale che noi percepiamo come gusto deve essere un segnale molto chiaro e non confondibile e anche la risposta idonica deve essere molto chiara e non confondibile dal nostro organismo che ha bisogno di questo segnale per decodificare in maniera molto semplice se quello che stiamo assumendo ci fa bene oppure ci fa male. Andiamo nel dettaglio. Avendo a disposizione questi cinque gusti, per alcuni di questi gusti, in particolare per il dolce, noi abbiamo una preferenza innata. Che cosa vuol dire? Che noi nasciamo già preferendo il gusto dolce. Quando un bambino molto piccolo viene fatto assaggiare una soluzione che contiene zucchero, l'analisi dell'espressione facciale del bambino chiaramente mette in evidenza che il bambino prova piacere a assaggiare la soluzione zuccherata ed è predisposto al consumo. Al contrario abbiamo un rifiuto innato per l'amaro. Facciamo assaggiare stesso esperimento a un bambino qualcosa di amaro, questo bambino lo rifiuterà o comunque la sua espressione facciale dimostrerà un chiaro rifiuto. Parliamo di bambini appena nati quindi che non hanno avuto altre esperienze con i prodotti alimentari. Questa è la preferenza innata. A che cosa è dovuta? È dovuta diciamo alla nostra esperienza di onnivori dal punto di vista evolutivo perché l'esperienza durante la nostra evoluzione ci ha insegnato cosa? Il gusto dolce normalmente è associato a un elevato tenore di carboidrati e quindi a un buon apporto energetico. Viceversa il gusto amaro tante volte, non sempre ma tante volte, è associato a sostanze presenti soprattutto nei vegetali che possono avere un effetto tossico per il nostro organismo. Ecco dunque un meccanismo molto semplice legato alla percezione. Molto semplice ma molto forte perché noi già nasciamo con questa preferenza molto precisa. Sì il dolce va bene, no l'amaro se è amaro potrebbe farci male. Quindi da queste prime considerazioni è evidente che la nostra reazione istintiva ai gusti è una strategia di sopravvivenza e il piacere indotto da alcuni gusti è la motivazione per il nostro organismo al consumo di cibi che ci fanno bene e che sono utili. Vi vorrei dire così quattro parole sui gusti fondamentali per capire un po' di più diciamo qual è il legame fra la risposta idonica e il gusto che noi percepiamo. Del dolce l'abbiamo già detto, il dolce quindi per il dolce abbiamo una preferenza innata perché è segnale di cibi molto ricchi di energia. Dobbiamo dire che la preferenza per il dolce è molto più alta nell'età infantile che non nell'età adulta e questo di nuovo non deve stupire perché chiaramente il fabbisogno energetico di un bambino è tanto più alto rispetto al fabbisogno energetico di un adulto e un'altra cosa interessante sull'acquarelli frettere è che il piacere che si prova per il gusto dolce rimane anche quando il gusto dolce non è associato all'apporto energetico. Voglio dire, quando noi utilizziamo dei prodotti di eté light dove al posto dello zucchero ci sono i dolcificanti in realtà proviamo la stessa soddisfazione idonica che proviamo al consumo di cibi dolcificati col saccarosio quindi in maniera naturale. Anche il gusto salato, al gusto salato è associata una preferenza anche questa molto forte, non nasciamo già con la preferenza per il salato servono pochi mesi, pochi mesi di vita e il bambino inizia a preferire i cibi salati quindi ad accettare diciamo così i cibi salati. Perché abbiamo questa preferenza per il gusto salato? Di nuovo il gusto salato è indotto dal sale da cucina fondamentalmente quindi sodio cloruro. Il sodio cloruro, il sodio del sodio cloruro è fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo perché garantisce quello che si chiama bilancio omeostatico quindi di nuovo alla preferenza per un gusto è associato a una necessità molto forte per il nostro organismo. Dobbiamo dire che esiste, forse molti di voi lo sanno bene esiste una preoccupazione circa il consumo di sale perché ne viene consumato più di quanto dovremmo. In realtà quello che dobbiamo pensare ed è molto molto difficile rinunciare al sale cioè abbassare, eliminare diciamo il sale dalla dieta. Come mai? Perché non solo noi preferiamo il gusto salato cioè qualcosa che ci piace ma in realtà il gusto salato funziona come esaltatore generale di sapidità cioè un prodotto al quale aggiungiamo sale risulta più intenso anche per gli altri sapori presenti in questo prodotto quindi abbiamo un effetto duplice che rafforza chiaramente la nostra accettabilità per ciò che ha un gusto salato e il fatto che sia veramente tanto difficile fare a meno di questo condimento. Poi abbiamo quello che viene chiamato quinto gusto quindi l'umami l'umami è indotto da una sostanza che deriva da un amminoacido quindi da un componente delle proteine perché abbiamo è stato dimostrato che nasciamo con la preferenza innata per l'umami perché abbiamo questa preferenza innata per l'umami non è chiaro. Un'ipotesi è che l'umami segnala appunto la presenza di proteine che sono un elemento plastico fondamentale per il completo e corretto sviluppo per il nostro organismo che comunque questa sostanza che induce l'umami sia comunque indispensabile al corretto metabolismo del nostro organismo. È interessante considerare che l'umami cioè se noi assaggiamo una soluzione che contiene solo il glutammato che è la sostanza che induce l'umami è difficile riconoscere questo gusto non è così facile soprattutto per noi occidentali ma la funzione dell'umami è quella come quella del sale di esaltare il sapore degli altri di esaltare il sapore gli altri sapori presenti nel cibo quindi anche questo è un esaltatore di sapidità lo sappiamo bene questo è lo scopo dell'aggiunta del dado da brodo va bene quello che si chiama il dado gli estratti che si aggiungono nelle ricette sono a base di glutammato sodio monoglutammato e hanno esattamente questa questa funzione altre due parole le voglio spendere per i grassi quindi noi preferiamo i cibi dolci ma siamo anche fortemente attratti per i cibi ad elevato tenore di grassi questo non deve stupire perché i grassi sono una fonte di energia molto densa quindi per il nostro organismo rappresentano davvero un grande vantaggio in termini energetici propriamente non abbiamo i recettori per il grasso sulla lingua come invece abbiamo per gli altri gusti però è sempre più evidente che questi recettori per le sostanze grasse noi ce li abbiamo solo che li abbiamo all'interno dell'apparato digerente quindi non siamo consapevoli del gusto grasso noi ma il nostro organismo sì quindi quando noi ingeriamo delle sostanze grasse queste interagiscono con i recettori presenti nell'apparato digerente e questo scatena una forte risposta positiva della quale non siamo consapevoli nel nostro organismo che si predispone all'assunzione di una grande fonte di energia e i grassi comunque sono responsabili di una serie di proprietà sensoriali altamente accettate pensate alla cremosità che è una proprietà sensoriale che guida la preferenza di tantissimi prodotti alimentari oppure anche la croccantezza e così via e poi ovviamente abbiamo i segnali negativi cioè i gusti che invece ci mettono in allarme il nostro organismo si preoccupa perché quando percepisce questi gusti li associa a una potenziale situazione di pericolo quali sono l'amaro l'abbiamo già detto e poi l'acido anche per l'acido diciamo anche se non c'è proprio una reazione di rifiuto quando si fanno questi esperimenti con i neonati ma comunque una sensazione di fastidio come mai l'acido non è così accettato almeno in età molto giovane uno perché molto probabilmente alla percezione dell'acido corrisponde anche un cibo a basso tenore calorico e poi perché probabilmente all'acido alla percezione dell'acido è associata la possibilità che il cibo sia contaminato da microorganismi e quindi che possa farci male a conclusione di questa carrellata diciamo sul perché alcuni gusti ci piacciono e altri non ci piacciono dobbiamo dire comunque che nel contesto nel quale noi percepiamo il gusto la valenza idonica cioè che quel gusto ci piaccia oppure no cambia quindi all'interno di un determinato prodotto quindi di un determinato cibo quindi in un determinato contesto ci aspettiamo per esempio un certo livello di amaro lì è rappresentata la guinness una birra molto nota e nota soprattutto perché amara chi beve la guinness ovviamente la beve perché si aspetta che abbia una certa intensità di amaro quindi la valenza idonica dell'amaro in questo contesto è del tutto positiva ora se alla luce di quello che abbiamo detto adesso pensassimo che la preferenza è qualcosa di statico e quindi rispetto alla nostra preferenza innata per il dolce per il grasso per il salato non abbiamo armi e quindi siamo destinati diciamo a mangiare comunque cibi che nella società attuale non ci fanno male non ci fanno bene sbaglieremo di grosso perché invece la preferenza è qualcosa che si evolve in maniera continua da quando siamo molto piccoli e per tutta l'età adulta in base a cosa in base al fatto che crescendo facciamo esperienza di nuove associazioni fra gusti sapori odori che non conoscevamo e esperienze post ingestive o in generale esperienze positive quindi dall'associazione continua fra questi gusti sapori odori nuovi e l'esperienza che nel complesso è positiva nasce la preferenza per cibi nuovi quindi se pensiamo ai bambini che sono diciamo il target sempre quando io penso allo sviluppo della preferenza se pensiamo ai bambini il punto chiave per aiutare i bambini ad andare oltre la loro preferenza innata è convincerli a fare esperienza di cibi nuovi ora quando inizia l'esperienza di sapori gusti odori nuovi prestissimo perché già il feto fa esperienza di gusti e sapori nuovi in base alla dieta della mamma perché queste sostanze che hanno attività dal punto di vista della capacità di indurre delle sensazioni passano nel liquido amniotico e il feto sperimenta quindi gusti e sapori allo stesso modo la dieta i sapori della dieta della mamma si riflettono nel latte materno quindi bambini allattati al seno sperimentano gusti e sapori nuovi in funzione di quello che mangia la mamma il latte è dolcissimo perché appunto deve essere facilmente accettato dai bambini ma il latte delle mamme che hanno una dieta molto varia abbina al dolce altri gusti altri sapori e il bambino quindi già da piccolissimo fa nuove esperienze queste esperienze quindi sia della vita prenatale sia della primissima infanzia sono importantissime perché hanno conseguenze e durature in che termini per quanto riguarda la preferenza se volete banalmente questi bambini preferiscono i gusti e i sapori che caratterizzavano la dieta della mamma ma la cosa più importante è che i bambini che hanno avuto questa esperienza da piccolissimi in realtà sono molto più propensi ad avere una dieta varia quindi a essere diciamo più propensi a provare cibi nuovi quindi allargare lo spettro della loro preferenza. Penso che tutti quanti noi però ci siamo scontrati con un ostacolo che chiamiamo neofobia cioè il fatto che i bambini a un certo punto del loro sviluppo diciamo sui 4-5 anni diventano si dice estremamente neofobici cioè il tipo di cibo ai quali i bambini vorrebbero avere accesso è veramente estremamente ridotto. Perché succede questo? Riflettiamo su questo se noi pensiamo a un bambino non è raro vedere bambini molto molto piccoli cioè bambini per esempio di un anno due anni che senza grandi difficoltà assaggiano di buon grado anche cibi che hanno sapori molto particolari se qualcuno tipo la mamma o il babbo che glieli propone avete bambini molto piccoli per esempio che accettano di assaggiare anche un cibo molto piccante. Questo meccanismo di fiducia a un certo punto si rompe quindi verso i 4-5 anni questi bambini che da piccolissimi erano così predisposti a assaggiare di tutto verso i 4-5 anni in realtà diventano estremamente come dire schizzinosi e predisposti a mangiare solo un numero molto limitato di cose. Questo fenomeno si chiama neofobia e la paura che ha il bambino non è la paura che il cibo gli faccia male perché questo concetto ancora non ce l'ha ma la paura che ha il bambino è che quel cibo non gli piaccia quindi la paura il freno è la paura di fare un'esperienza sensoriale negativa. Il significato di un meccanismo come questo è molto profondo perché un bambino molto piccolo diciamo un cucciolo è sottoposto alle cure parentali cioè sono i genitori che si prendono cura di quello che il bambino può mangiare o non mangiare quindi è come dire che il cucciolo delega il ruolo di sentinelle ai suoi genitori. Un bambino verso i 4-5 anni invece inizia a sviluppare una certa indipendenza ma questo dal punto di vista evolutivo quindi diventa l'onnivoro se volete che deve scegliere fra tutti i cibi che ha a disposizione quelli che deve mangiare e che fa il nostro onnivoro moderno sceglie i cibi dolci che già conosce per i quali ha una preferenza e che sicuro il suo organismo è sicuro gli facciano bene e invece manifesta una grande paura verso i cibi che in generale non conosce quindi il fenomeno della neofobia è questo bisogna dire per stare tranquilli che si supera quindi con l'età la neofobia si supera anche se e questo lo vedremo qualche altro piccolo dettaglio ci sono tanti adulti che rimangono molto neofobici quindi hanno veramente una tendenza molto bassa a provare i cibi nuovi. Come si fa a superare la neofobia? Non è difficile in realtà basta l'esposizione che vuol dire basta riuscire a far assaggiare al bambino in maniera quotidiana nelle condizioni adeguate vedremo quali sono queste condizioni adeguate cibi nuovi e basta poco bastano un numero relativamente ridotto di esposizioni ripetute nelle condizioni adeguate perché la paura del bambino verso il cibo sconosciuto diminuisca quindi in altri termini aumenta aumenti la preferenza di quel bambino per il cibo sconosciuto e in generale diminuisca la paura del bambino a provare cibi nuovi. Quali sono le strategie che possono funzionare e quelle invece destinate all'insuccesso? Quando noi diciamo mangia perché ti fa bene stiamo diciamo lanciando un messaggio che non avrà successo nei bambini non avrà successo perché i bambini non sono diciamo sensibili al richiamo nutrizionale anzi se è qualcosa che fa bene e questa è un'associazione che devo dire fanno anche molti adulti se è qualcosa che fa bene sicuramente ha un gusto che non mi piace quindi è un richiamo che non funziona comunque questo tipo di richiamo quindi di tipo di tipo nutrizionale ha un effetto decisamente più positivo per età maggiori quindi per esempio gli adolescenti sono molto più sensibili a un richiamo nutrizionale che non i bambini. Ovviamente non funziona la costrizione quindi mangialo per forza in condizioni di costrizione perché questo genera complessivamente una situazione di tensione quindi l'associazione del cibo che non conosco a una situazione che non mi piace che vivo in maniera negativa quindi effetto negativo ma attenzione non funziona neanche la ricompensa con un altro cibo cioè se io dico mangia la verdura perché dopo mangerà il gelato non funziona come mai non funziona? Gli psicologi parlano di effetto di ipergiustificazione cioè se l'esperienza che io devo fare quindi quella di mangiare la verdura che non conosco e che non voglio fare non ha valore in sé sono ancora meno motivato a mangiarle anzi se devo mangiare la verdura è una cosa così difficile da fare che addirittura dopo mi danno un premio cioè mi danno quello che mi piace di più quindi l'effetto ultimo è che la mia preferenza per la verdura scende e la mia preferenza per il gelato sale quindi evidentemente in questo tipo di azioni la famiglia può fare moltissimo cosa è che funziona? Quello che dicevamo prima cioè funziona nel complesso l'esperienza sensoriale positiva che cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo il cibo nuovo e lo propongo in una maniera che il bambino accetta qual è la maniera che il bambino accetta? In una ricetta gradevole in combinazione con alimenti che già conosce nel complesso l'esperienza in un contesto positivo ma inteso il contesto come ricetta il contesto come piatto questo sicuramente avrà successo ora noi possiamo diciamo tutte le mamme che hanno svezzato i bambini hanno adottato questa tecnica di introdurre piano piano cibi e sapori nuovi quindi se noi pensiamo a quello che si può fare a casa benissimo però ci dobbiamo porre anche un problema di tipo strutturale perché tanti dei nostri bambini vanno diciamo sufruiscono dei servizi di ristorazione pubblica dove in realtà si fanno tanti sforzi in questo senso ma che hanno diciamo una ricaduta relativamente molto molto contenuta perché partono dall'assunzione che il cibo deve fare bene e quindi deve essere consumato e non considerano invece tutti i meccanismi che sono che determinano poi l'accettabilità di quel prodotto anche in un bambino bene l'attenzione nei confronti dell'educazione alimentare per i bambini è grandissima penso che tutti quanti noi ne siamo consapevoli esistono anche una serie di strategie che vengono ripetutamente messe in atto per cercare di risolvere questo di aiutare diciamo lo sviluppo della preferenza dei bambini fra le iniziative diciamo alle quali parteciperà anche l'università di firenze c'è un progetto europeo che si chiama proprio veggie it cioè mangia vegetali a questo progetto appunto è stata chiamata a partecipare anche l'università di firenze in particolare appunto il laboratorio di analisi sensoriale ha come scopo quello di mettere a punto delle ricette e delle strategie che abbiano successo per l'incremento di consumo di vegetali nei bambini quindi esistono una serie di interventi strutturali che mirano a risolvere il problema di passare dal bambino a sinistra al bambino a destra diciamo in maniera come dire rigorosa e sistematica dette tutte queste cose è chiaro che nello sviluppo della preferenza funzionano le associazioni quindi abbiamo una serie di associazioni positive che sicuramente funzionano nell'aumentare la preferenza la prima associazione è quella di cui abbiamo appena parlato quindi come facciamo a introdurre gusti nuovi supponiamo di avere un sapore chiamiamolo neutro cioè che ne ci piace ne non ci piace qualcosa che non conosciamo se questo gusto neutro viene associato invece a un gusto che già ci piace classicamente quindi il dolce e nel complesso l'esperienza post ingestiva è positiva che cosa succede che in seguito a un'esposizione ripetuta di questo tipo io sviluppo una preferenza per quel sapore sconosciuto e non ho più bisogno del dolce che mi traghetti diciamo verso la possibilità di mangiare in maniera regolare il cibo dal sapore inizialmente sconosciuto quindi è come se la preferenza che io ho per il gusto dolce che inizialmente è indispensabile si riflettesse sulla preferenza del sapore che io sperimento in associazione con il dolce quindi questo tipo di associazioni sono molto forti funzionano molto bene e dobbiamo dire che chi produce alimenti le conosce veramente molto bene lancia continuamente sul mercato fateci caso prodotti apparentemente nuovi cioè lancia gli abbinamenti più se volete anche impensati propone appunto alla gente di consumare cibi dal sapore nuovo dal gusto nuovo quando voi li assaggiate che lo siate consapevole che siate consapevoli di questo oppure no quei cibi in maniera sistematica saranno avranno delle proprietà sensoriali che sono largamente accettate può essere il dolce può essere la cremosità possono essere altre cose però il prodotto nella sostanza è sempre lo stesso quindi giocano sull'associazione fra l'introdurre una varietà perché noi cerchiamo la dieta varia questo è un altro una cosa di cui magari parleremo in un'altra occasione però noi cerchiamo di variare istintivamente la nostra dieta quindi le grandi aziende di produzione rispondono a questa esigenza con cibi apparentemente sempre diversi ma nella sostanza sempre uguali e i sapori nuovi sono proprio introdotti grazie all'azione dei sapori che già ci piacciono come per esempio il dolce che queste associazioni siano fortissime è tanto vero che ci aiutano anche a superare il rifiuto per i gusti che inizialmente appunto non accettiamo come per esempio l'amaro l'esempio che mi piace fare in questo caso è l'esempio relativo al caffè se noi pensiamo al gusto di caffè il gusto di caffè è amaro quindi tendenzialmente diciamo dovrebbe essere una bevanda che ha scarsissimo successo invece una delle bevande più popolari nel mondo e l'odore e il sapore di caffè sono fra le sensazioni più gradite come mai perché in realtà si è instaurata nell'organismo di chi consuma il caffè è un'associazione positiva se io consumo il caffè nel caffè c'è la caffeina la caffeina al mio organismo fa bene perché aumenta l'attenzione aumenta la reattività e così via quindi io voglio consumare caffè mi spaventa l'amaro che faccio metto lo zucchero oppure metto il latte questo almeno all'inizio io penso che molti di noi potranno condividere come esperienza di bevitori di caffè una specie di storia comune cioè il caffè inizialmente poco in combinazione appunto con il latte con lo zucchero dopodiché via via che andiamo avanti tantissimi adulti bevono caffè nero cioè senza zucchero senza e senza latte quindi di nuovo che cosa è successo che il nostro organismo ha associato l'esperienza altamente positiva dell'assunzione di caffeina al sapore all'odore di caffè e ha imparato a non avere paura dell'amaro del caffè perché ha capito che non è un pericolo anzi è associato a un effetto positivo due parole ancora sulle associazioni importanti per lo sviluppo della preferenza quelle legate al contesto ci sono dei contesti che agiscono in maniera positiva sulla nostra preferenza ma c'è da dire che queste conseguenze non sono durature di nuovo faccio un esempio molti di noi saranno andati in vacanza in un posto molto bello magari esotico hanno provato cibi nuovi non familiari e li hanno trovati particolarmente gradevoli tanto gradevoli che tante volte li abbiamo comprati li abbiamo comprati e li abbiamo portati a casa li abbiamo portati a casa quando li abbiamo mangiati a casa non erano così buoni come ci ricordavamo in vacanza come mai in quel caso lì è il contesto che è la cosa più importante che guida ovviamente bisogna raggiungere un livello minimo di accettabilità sensoriale va bene cioè se il cibo complessivamente è accettato quelle proprietà sensoriali il valore edonico positivo di quelle proprietà sensoriali viene saltato dal contesto ma il legame debole quindi quando noi torniamo a casa in realtà quelle proprietà sensoriali non riescono più a evocare il contesto positivo e quindi l'accettabilità per quel prodotto diminuisce però abbiamo anche un fenomeno contrario ci sono dei cibi che richiamano in maniera molto forte dei contesti positivi cioè sono proprietà sensoriali legate a un contesto positivo e questa associazione è fortissima l'esempio forse che conosciamo meglio è la cucina della mamma che cos'è che ci piace di più se non la cucina di sapori che ci piacciono di più se non quelli della cucina della mamma in questo caso l'associazione è così forte che sono le proprietà sensoriali del prodotto che ricreano l'emozione positiva del contesto infatti non è banale il fatto che si cerchino questi cibi altamente familiari in situazioni per esempio di stress o di poco conforto perché il cibo in sé per sé diventa quel sapore quell'odore rievocando il contesto positivo diventa ulteriormente rassicurante l'ultima cosa di cui vi volevo parlare è questo cioè al di là di tutte le cose che ci siamo detti fino adesso dobbiamo fare i conti con come siamo fatti quella che vedete qui è quella lingua blu è un sistema semplice utilizzato in laboratorio senza nessun rischio per chi fa queste cose di contare il numero di papille gustative che abbiamo sulla lingua i recettori del gusto sono sulla lingua e sono all'interno delle papille gustative quindi in teoria possiamo dire diciamo prima nella pratica ci sono delle persone che hanno un numero molto elevato di papille gustative persone che hanno un numero medio e persone che hanno un numero relativamente basso di papille gustative quindi in teoria possiamo distinguere la popolazione in gruppi in italiano sarebbe di super gustatori quelli che hanno un numero di papille gustative estremamente alto e invece di gustatori normali quelli che gli inglesi chiamano taster che hanno un numero di papille gustative medio la scienziata che per prima si è occupata di queste cose ha fatto un'analogia fra i gusti e i colori che io trovo molto esplicativa cioè lei ha detto che i super taster cioè i super gustatori è come se paragonando i gusti ai colori è come se vivessero in un mondo illuminato dal neon cioè queste persone percepiscono i gusti in maniera estremamente vivida al contrario i taster o i non taster addirittura è come se vivessero in un mondo diciamo con un'illuminazione normale o quelli con una bassa abilità percettiva in un mondo con un'illuminazione soffusa a dire che chi ha tante papille gustative ha una percezione estremamente chiara dei gusti chi invece ha un numero più basso di papille gustative diciamo ancora li percepisce ma in maniera meno chiara questa è la divisione se volete grossolana esistono una serie di tratti una serie di abilità percettive quindi la capacità di sentire dei gusti e dei sapori per i quali è stata chiaramente dimostrata una base genetica quindi noi siamo fatti in un certo modo e quindi siamo in grado di percepire alcune sensazioni quella più nota vabbè ve la devo dire in inglese si chiama prop taster lo stato cioè la capacità di sentire l'amaro del prop il prop è una sostanza che possiamo trovare anche in natura se noi prepariamo una soluzione con il prop e la facciamo assaggiare qui in sala più o meno il 25 per cento di voi l'assaggerà e dirà è amarissima il 50 per cento dirà amara ma c'è un 25 per cento che l'assaggerà e dirà è acqua cioè non sarà in grado di sentire l'amaro indotto da questa sostanza come mai perché il suo dna non contempla la possibilità di sintetizzare il recettore per quella sostanza amara sistemi come questi quindi di predisposizione per genetica a una particolare abilità percettiva sono stati dimostrati anche per altri aspetti per esempio la preferenza per il dolce quindi ci sono persone che hanno una spiccata preferenza per il dolce anche questo sembra che abbia una base genetica la sensibilità individuale alla stringenza della stringenza non abbiamo parlato è una sensazione che sentiamo in bocca e anche questa il nostro organismo la percepisce come segnale d'allarme perché legata anche questa all'assunzione di sostanze potenzialmente tossiche ci sono nella popolazione persone che sentono la stringenza in maniera molto intensa e persone invece che a parità diciamo di stimolo la sentono in maniera decisamente meno importante ma anche la neofobia cosa di cui parlavamo prima dei bambini ha una base genetica e questo spiega come mai ci sono degli adulti fortemente neofobici cioè persone che in realtà anche in età adulta hanno un'estrema riluttanza a provare cibi nuovi e pare che questo tratto personale appunto abbia una base genetica e per finire la tendenza alla disinibizione che cos'è la tendenza alla disinibizione in pratica se volete in termini molto semplici è la facilità con cui cadiamo in tentazione cioè di fronte a un cibo che ci piace la capacità di resistere rispetto al fatto di mangiarlo oppure di cedere e mangiarlo quindi le persone per esempio a dieta ci sono persone che seguono la dieta in maniera molto come dire molto naturale riescono a resistere alle tentazioni riescono a tenersi molto bene a ciò che possono mangiare ciò che invece devono evitare queste persone hanno un bassissimo grado di disinibizione cioè anche di fronte a uno stimolo molto forte riescono a resistere e a rimanere inibiti cioè non mangio che ne so questo pezzo di torta al contrario ci sono delle persone che nella stessa situazione cedono perché si disinibiscono e anche questo tratto personale apparentemente è sotto il parziale controllo genetico dette tutte queste cose se noi pensassimo che questo è quello che determina la nostra preferenza faremmo un errore enorme questo fattore qui cioè come siamo fatti la predisposizione genetica sicuramente ha un ruolo cioè la nostra abilità percettiva gioca un ruolo nello sviluppo della preferenza per i prodotti alimentari ma insieme a tutti gli altri cioè non possiamo dire che non mangiamo la verdura perché siamo prop taster questa cosa non è vera tant'è vero che quando si fanno degli studi in cui si mettono a confronto le abitudini alimentari gli stili alimentari di persone a diverse abilità percettiva sui grandi numeri si trova una tendenza ma vi garantisco che è molto faticoso trovare chiaro l'effetto della predisposizione genetica sulla preferenza perché per fortuna invece la nostra preferenza riflette è vero come siamo fatti ma anche la nostra esperienza personale quindi giusto per dire altre due cose dal punto di vista evolutivo noi ci siamo sviluppati in una situazione in cui la preferenza funzionava secondo lo schema riportato nel riquadro in verde ne ho bisogno mi piace lo consumo soddisfo il bisogno mi fa bene e noi invece ci troviamo a vivere in una società dove il concetto del bisogno energetico in realtà non c'è certo possiamo avere appetito ma abbiamo facilmente accesso al cibo questo è vero possiamo potremmo quasi dire in assoluto se parliamo delle nostre della nostra società quindi non ne ho bisogno di energia però mi piace e quindi lo consumo e allora vivo come dicevamo prima il contrasto se prediligo l'aspetto salutistico avrò il benessere fisico se prediligo l'aspetto donistico in realtà metto a rischio la mia salute alla luce spero di tutto quello che ci siamo detti possiamo arrivare alla conclusione che non ha senso fare la lista del cibo buono e del cibo cattivo non c'è qualcosa che in sé per sé ci farà male e soprattutto non è vero che ciò che ci piace ci farà male questo è assolutamente qualcosa cioè pensare di sacrificare l'aspetto edonistico a favore dell'aspetto salutistico è qualcosa che sul lungo periodo non funziona io parlo sempre per esempio e ve ne faccio un altro se uno passa vuole perdere peso e va una settimana in clinica in un centro benessere fuori da tutti gli stimoli fuori dalla sua vita eccetera mangia magari delle cose che dal punto di vista edonistico non sono affatto soddisfacenti però gli fanno perdere peso l'ambiente è confortevole quindi questa persona effettivamente dopo sette giorni torna e ha perso i famosi 5 chili questi 5 chili sul lungo periodo saranno ripresi con grande facilità perché quando mortifichiamo in maniera molto evidente l'aspetto edonico cediamo in maniera come dire più forte all'aspetto appunto all'aspetto edonico e agli stimoli esterni quindi quello diciamo la cosa della quale ci dovremmo preoccupare più che della lista del cibo buono e del cibo cattivo quindi del cibo buono e salutare buono e del cibo cattivo va bene più di questo ci dovremmo preoccupare invece dello stile alimentare che noi adottiamo quindi inteso nel suo complesso quello che mangiamo e come lo mangiamo quindi perché anche questo viene fortemente condizionato da una serie di stimoli che sono stimoli di natura sociale che sono stimoli di origine sensoriale e poi ci sono gli stimoli interni fra gli stimoli interni mettiamo l'appetito e mettiamo la ricerca del piacere del cibo allora le domande che ci facciamo sono per quanto riguarda lo stile alimentare quando mangiamo mangiamo quando è appropriato che io mangi perché per cultura io so che a mezzogiorno mangio mangio quando tempo perché adesso ho tempo e mangio mangio perché ho sentito un odore particolarmente diciamo che mi ha fatto venire l'acquolina e quindi voglia di mangiare quella determinata cosa oppure seguo solo il mio stimolo interno e mangio quando ho fame quanto mangio di nuovo quanto è appropriato e quanto è appropriato quello che mi hanno messo nel piatto quindi la porzione oppure quello che mangiano gli altri se sono in un contesto conviviale a tutta probabilità mi adeguerò alla quantità di cibo che mangiano gli altri quindi sono a cena con le mie amiche a dieta che mangiano metà dell'insalata che hanno ordinato indipendentemente da quanta fame ho a tutta probabilità anch'io mangerò in questo modo invece sono in una situazione conviviale che funziona in un altro all'opposto quindi dove tutti un po' eccedono a tutta probabilità eccederò anch'io e infine come dedico attenzione a quello che mangio se volete mi gusto il cibo che mi sono scelto e che sto mangiando adesso oppure una cosa del tutto accessoria che faccio senza attenzione magari facendo altro di nuovo dobbiamo sottolineare che se io appago l'aspetto edonistico sarò meno soggetto agli stimoli esterni e quindi riuscirò a seguire in maniera più semplice più continua gli stimoli del mio organismo che mi guideranno quindi verso le scelte migliori che mi appagano e che sono anche quelle più sane io ho finito l'ultima considerazione che vorrei fare la seguente cioè alla fine di tutta questa chiacchierata che appare evidente che la promozione a lungo termine di uno stile alimentare sano che riguardi fasce di popolazione ampie non può continuare a basarsi sull'antagonismo fra ciò che fa bene e ciò che fa male invece va ripensato questo sistema alla luce delle conoscenze relativamente allo sviluppo della preferenza e all'accettabilità dei prodotti alimentari in maniera tale da mettere a punto delle strategie per tutti perché non siamo una società di gastronomi no siamo una società di persone che lavorano e che mangiano anche che scelgono cosa mangiare che mangiano che scelgono quello che devono mangiare i loro figli quindi è necessario avere a disposizione degli strumenti largamente condivisi ed efficaci per mettere in piedi appunto strategie efficaci che consentano un'alimentazione sana e buona grazie bene grazie per l'interessantissima lezione e ovviamente ora si apre il tempo e lo spazio per le domande io se permettete ho ricevuto due messaggi quindi ti leggo le domande il gusto piccante positivo per il nostro organismo che tipo di segnale dà all'organismo non essendo immagino non rientri nei gusti nei cinque gusti che hai elencato come principali allora quando parliamo di piccante non parliamo di un gusto ma parliamo di quella che si chiama una sensazione chemestetica cioè è una sensazione che classifichiamo fra le sensazioni irritanti quindi complessivamente diciamo la nostra risposta al piccante lo dice il nome non istintivamente non è non è positiva poi come per tante altre sensazioni che inizialmente ci spaventano l'esperienza che ci insegna a non spaventarci di questa sensazione irritante anzi magari a gradirne la presenza in determinate combinazioni alimentari l'altro messaggio che ho ricevuto dice esiste una preferenza innata dovuta al clima in cui viviamo perché è così diversa la dieta tra i popoli perché è così diversa la dieta cioè tra i popoli allora la prima la prima cosa che devo dire è che la preferenza innata invece è straordinariamente comune questa è transculturale quindi indipendentemente da dove nasciamo se il test che dicevamo prima di far assaggiare la soluzione dolce a un neonato che sia nato qui o che sia nato in una cultura completamente diversa dalla nostra la reazione sarà la stessa quindi sia per quanto per quanto riguarda la preferenza innata proprio perché è un meccanismo che si è messo a punto per garantire la sopravvivenza della specie un meccanismo comune quindi la preferenza innata non cambia e non dipende da dove siamo nati invece evidentemente quel processo di apprendimento che poi porta all'evoluzione dalla preferenza innata alla nostra preferenza nell'età adulta dipende evidentemente dalle condizioni di vita quindi dal cibo dal tipo di cibo al quale abbiamo accesso dalle diverse culture e così via quindi le culture sono tanto diverse perché riflettono un tipo di un diciamo un accessibilità alle materie prime differente sono grazie io mi scuso preliminarmente non ho capito molto la relazione bella vasta ampia però i due termini del testo della relazione mi sono sfuggiti che vuol dire mangiare sano che vuol dire mangiare bene non l'ho capito ancora e poi uscendo di qui cosa ci invita a mangiare non dico dove sarei più contento ma cosa ci invita a mangiare cioè se andiamo al concreto al pratico la lezione troppo vasta troppo bella troppo completa mi ci sono perso mi aiuti grazie allora se la prima parte della che cosa vuol dire mangiare sano e che cosa vuol dire mangiare bene mangiare sano vuol dire qualcosa che non abbia che non comporti un rischio per la nostra salute se viene consumato in maniera regolare in quantità eccessive mangiare bene vuol dire soddisfare l'aspetto edonico quindi trarre piacere da quello che mangiamo e cosa dovrei dire potrei dire nutrizionale se io dovessi dire che è buono per la salute dovrei avere delle evidenze cliniche che al momento non ma mancano per tantissimi prodotti alimentari ci sono molto importanti che dicono che dicono in termini ineludibili la harvard medical school ha fatto cambiare la piramide al dipartimento dell'agricoltura degli stati scusate il dire che non abbiamo idea di che cosa mangiare è un errore clamoroso le prove evidenti Willett dice qualcosa la piramide del mangiare sano è basato su evidenze su ricerche fatte su 180.000 persone paramediche di Boston un'altra ricerca fatta su 80.000 persone delle ricerche questi sono dati se parliamo di edonistico e di salutistico e siamo a livello di rotocalco o poco meno siamo a livello di rotocalco noi quando troviamo questi termini li troviamo soltanto su certi giornali con il massimo rispetto per i gestori è un termine da bar o quasi ci sono le prove quali sono le cose essenziali per dire che è salute evita il rischio è una tautologia è un ripetersi quindi qualcosa di consistente questo tempo lo vogliamo gustare quello che abbiamo passato qui a me dispiace se lei non ha gustato il tempo che ha passato qui mi dispiace molto la prima riflessione che vorrei fare è che nei posti quindi per esempio in America dove quando si va nei bar a fare colazione oltre al menu c'è il tenore calorico di tutti gli ingredienti di tutti i cibi che abbiamo a disposizione è riportata alla tabella nutrizionale bene l'obesità in questo in questa come dire cultura così preoccupata dall'aspetto salutistico l'obesità è un rischio gravissimo mentre in altri posti dove ancora si privilegia la capacità di godere del cibo l'obesità tutto sommato diciamo è sicuramente una grande preoccupazione è il motivo per cui quando io parlo di mangiare sano e bene non parlo di quello che noi mangeremo a casa quindi non vi dirò che cosa mangiare oggi perché quella è una scelta che spetta a voi invece mi preoccupano gli interventi strutturali rispetto a questo tipo di problema che sono sempre stati basati sul potere nutrizionale sul possibile possibile effetto positivo di alcuni componenti dei prodotti alimentari sulla nostra salute e che devo dire però ritornando all'esempio di prima sono falliti dal mio punto di vista studio queste cose da circa 15 anni l'errore in questo tipo di interventi è stato quello di pensare che la gente avrebbe imparato a mangiare per sé semplicemente per il fatto di rispondere a un'esigenza di salute e dimenticandosi invece tutto quello che il cibo e che il mangiare rappresenta e che invece con la buona pace dei nutrizionisti o di tutti gli altri il piacere che noi proviamo quando mangiamo rimane un aspetto importantissimo a mio giudizio ineludibile e da combinare con prodotti sani per i quali quindi ci sia un possibile effetto a lungo termine positivo sulla nostra salute la mia sarà una domanda limitatissima rispetto a quella precedente sulla quale mi permetto un'osservazione giocosa e cioè che i rotocalchi tecnicamente non esistono più perché non si stampano con le rotative ormai la domanda è questa sullo schermo ho letto la parola umami con a fianco proteine col punto interrogativo e dall'altro lato dei pomodori che con le proteine non c'entrano niente immagino ha ragione allora prima parte della sua domanda il punto interrogativo c'è perché mentre per gli altri gusti quindi ai quali è associato un segnale molto chiaro quindi ci piace il dolce perché ci sono i carboidrati e questo è chiaro e indiscusso non ci piace l'amaro perché ci potrebbe fare male per quanto riguarda l'umami di che cosa sia segnale il gusto umami a tutt'oggi non è chiaro quindi ho messo un punto interrogativo perché ci sono delle ipotesi siccome il glutammato è un componente degli amminoacidi e gli amminoacidi sono i componenti base delle proteine si ritiene che forse l'umami generato appunto dal glutammato sia gradito perché indica al nostro organismo che ci sono delle proteine quindi questa è la prima parte della sua domanda perché ci sono i pomodori ha ragione e perché i pomodori sono estremamente ricchi di sostanze in grado di indurre l'umami e un'ultima cosa quando noi prepariamo un piatto di pasta asciutta nel quale quindi mettiamo la pasta poi mettiamo i pomodori che sono molto ricchi, molto capaci hanno una grande capacità di indurre l'umami e poi ci mettiamo il parmigiano reggiano o il parmigiano in generale altra fonte grandissima di umami in pratica stiamo preparando un piatto dal sapore molto molto evidente ma soprattutto molto molto gradito questo è uno dei motivi per cui la pasta al pomodoro anche nella sua eccezione base è un piatto veramente molto accettato su scala molto larga e transculturale perché è trainato appunto dall'umami che è un gusto largamente accettato Quali sostanze nel pomodoro? L'acido glutamico Sì, ho ricevuto un altro messaggio per dei bambini in fascia di età 10-12 anni il latte la sera è spesso ripetuto nel tempo scusate per dei bambini in fascia di età 10-11 anni il latte la sera spesso è ripetuto nel tempo Casomai con biscotti dopo la scena è corretto? Sì, dopo la scena magari per addormentarsi immagino, non lo so questi bambini sono abituati Sì, allora la prima cosa da dire da un lato c'è da spezzare una lancia a favore del latte dall'altro lato c'è da fare una riflessione allora sicuramente il latte è un alimento estremamente ricco cioè è pensato appunto per i cuccioli cioè per chi ha un grande fabbisogno energetico e di tutta una serie di nutrienti quindi è chiaro che il fabbisogno di latte in sé per sé col procedere dello sviluppo diminuisce questo diciamo è un po' il fatto contro è anche vero però che nel latte ci sono una serie di sostanze che fanno veramente molto bene cioè pensiamo all'apporto di calcio con il latte e sicuramente il latte i prodotti a base di latte sono una fonte di calcio insostituibile quindi bere oppure no il latte questo diciamo dipende se ai bambini piace a un bambino piccolo piace piace sicuramente perché è associato a un contesto estremamente positivo probabilmente la sera le coccole della mamma e il latte quindi non vedo cioè il discorso è questo vale sempre il discorso dell'associazione positiva quindi non c'è un sì sicuramente sì oppure no sicuramente no come ho detto prima non non credo che esista una lista di cibi sì e di cibi no abbiamo un'altra domanda dunque volevo affrontare un piccolo problema delle persone fortunatamente c'è un sacco di giovani ma altre persone della mia generazione che sono un po' prigionieri dei luoghi comuni questo fa bene questo fa male perché magari lo diceva le loro nonne ma nel passato di tempo dalle nostre dalle nonne ad oggi e poi un'altra cosa non li possiamo più di questi cuochi in televisione secondo lei i cuochi in televisione dalle sette la mattina fino all'undici la sera ma hanno qualche per me è disinformazione quella lì cioè quando uno finisce la sera non lo sa cosa deve mangiare infine c'è un'alluvione grazie questa sua domanda mi fa particolarmente piacere perché mi consente di riprendere una cosa che per questioni di tempo diciamo non ho non ho affrontato io come lei sono molto sensibile al fatto che si parla tanto di cibo in tutte le sue accezioni come ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata leggiamo appunto questo contrasto da un lato questa grande preoccupazione della salute e poi dal lato un'operazione mediatica molto forte che fa quasi da contraltare a questa nostra esigenza di cibo salutistico dove il cibo appunto in queste trasmissioni è premiante che cosa? la capacità di diciamo di assemblare il piatto più buono possibile quindi quello che vale in questo caso è solo l'aspetto edonico è chiaro che propongono dei modelli questo tipo di trasmissioni che sono dei modelli come dire che non si che non trovano riflesso nella vita di tutti i giorni perché come ho detto molto brevemente alla fine quando io parlo di alimentazione sana e buona non mi sto riferendo alle persone che giustamente per interesse per cultura come dire dedicano tanto tempo alla scelta del cibo quindi hanno la voglia il tempo giusta di cercare come dire il mercatino di quelli che vengono a vendere il fine settimana la verdura perché così prendono la verdura prodotta qui vicino quindi presumibilmente senza additivi senza conservanti e così via oppure quelli che si fanno i viaggi per andare a comprare un cibo particolare o che hanno cosa da non dimenticare la disponibilità in termini economici di accedere a dei prodotti che sono ritenuti particolarmente salutari il modello che viene proposto in queste trasmissioni appunto questo cioè di una persona che passa il tempo a pensare cosa mangiare è chiaramente un modello per noi irraggiungibile nella nostra vita di tutti i giorni quindi quello che passa è che in realtà ancora una volta c'è la dicotomia questa volta fra il cibo buono e il ricercato e invece quello che tu del quale diciamo in qualche modo ti devi accontentare quindi da un lato aumenta l'attenzione in generale sul cibo il che a riflettere sul fatto che si contrappone un po' a questo discorso dell'aspetto assolutamente salutistico quindi non lo vedo in maniera del tutto negativa però nello stesso tempo propone dei modelli che sono dei modelli che non riflettono quella che può essere l'accesso quotidiano al cibo che invece dovrebbe essere appunto come dicevo in chiusura l'accesso al cibo sano e buono dovrebbe essere come dire facile l'ultima riflessione rispetto a questo è che dobbiamo pensare che per esempio il paradigma di tanti anni fa per cui le persone grasse erano le persone benestanti si è invertito per cui ad oggi le persone fisicamente in forma particolarmente in forma sono persone che rappresentano anche una certa fascia sociale quindi questo ulteriormente crea come dire questa contrapposizione fra due aspetti che invece dovrebbero essere vissuti assolutamente in sintonia non so se ho risposto del tuo luoghi comuni in che senso cioè quello che fa bene e quello che fa male i luoghi comuni su quello che fa bene e quello che fa male nascono dall'esperienza quindi tante volte nei luoghi comuni qualcosa di vero c'è ok abbiamo un'altra domanda buongiorno io sono una studentessa di biotecnologie presso la nostra facoltà volevo chiederle a proposito della dicotomia appunto taster super taster se è un carattere diciamo inducibile cioè inducibile cioè se appunto magari facendo la mamma magari mangiando diciamo una dieta più varia può aiutare il figlio a appunto acquisire un carattere maggiormente super taster o se si può diventare magari da super taster a tester perfumo o questi tipi di caratteristiche ok allora quando io ho parlato di tester e di super taster mi riferisco a una caratteristica fisiologica quindi è una come dire è una potenzialità che uno ha va bene cioè il fatto di avere una sensibilità particolarmente elevata per quanto riguarda la percezione dei gusti degli odori e dei sapori come questo poi si traduca quindi e questo è determinato geneticamente quindi non può essere indotto come dicevo prima la distribuzione di questo carattere nella popolazione normale cioè 25 non taster chiamiamoli così 50 taster normali 25 super taster e tant'è questo dipende da come siamo fatti però il riflesso di questo sulla preferenza non è assolutamente scontato non è affatto detto che un super taster per dire sia uno che abbia che cosa possiamo pensare che uno che percepisce i gusti in maniera molto intensa e molto forte per esempio sia più spaventato rispetto ai gusti nuovi rispetto a una persona che li percepisce in maniera media quindi potremmo pensare che un super taster in realtà diciamo ha una propensione minore a sperimentare cibi nuovi rispetto a un taster allora evidenze di questo tipo come dicevo prima ci sono sono studi fatti su numeri molto grandi e quindi quando uno riesce diciamo a pulire da tutto il rumore di fondo e a vedere solo l'effetto della predisposizione genetica questo effetto c'è ma come ho detto prima è un effetto fra i tanti quindi non è determinante in assoluto sì leggo un attimo una domanda ricevuta via sms cosa ne pensa degli integratori alimentari non ne penso né bene né male in realtà c'è c'è da dire che come ho detto in premessa noi abbiamo un accesso molto largo a una grandissima varietà di cibi per cui che effettivamente noi abbiamo bisogno di un ulteriore supporto perché si instaura io mi riferisco sempre a persone in uno stato di salute mediamente buono come mi riferisco a stili alimentari medi cioè non non penso a situazioni legate a patologia quindi se io mi riferisco a una persona mediamente in salute con un'alimentazione media e mediamente varia normalmente il discorso degli integratori diciamo in sé per sé non ha questa grandissima rilevanza in termini nutrizionali quindi ovviamente però può rispondere a esigenze personali molto importanti non lo so una persona che pratica tantissimo sport e che quindi ha una deplezione di alcuni nutrienti in particolare magari di quegli integratori ci ha bisogno in linea generale diciamo abbiamo un tale accesso a cibi vari che questo può essere facilmente risolto con una dieta variata ok un'altra domanda deve chiedere deve chiedere deve chiedere sì buongiorno dottoressa volevo porle una domanda io da circa sono stato onnivoro fino a un anno e mezzo fa poi ho assistito a una conferenza nella zona diciamo di Scandici dove praticamente stanno spiegando l'alimentazione sia vegetale che vegana e io da circa un anno e mezzo sono diventato vegano tra l'altro con grande soddisfazione per la famiglia un po' meno perché praticamente non mi seguono la mia intenzione per cui trovano fatica a starmi dietro però devo dire che ho trovato un grosso giovamento sotto il profilo diciamo fisico mi sono abbassati dei valori nel sangue dove avevo abbassato anche la flessione sanguigna che tra l'altro l'avevo alta la distolica ecco tra l'altro questa domanda naturalmente la ponga a lei che lei sta appunto come dire spiegando l'alimentazione onnivora io tra le varie documentazioni ho visto che tra l'altro noi non nasciamo diciamo onnivori ma nasciamo nasciamo diciamo vegetariani o perlomeno come esperienza diciamo nell'arco diciamo di quando l'uomo è nato poi dopo sotto un profilo culturale siamo diventati sia carnivori per le proteine animali e tutto il resto e questa è la domanda noi nasciamo come onnivori non nasciamo come erbivori cioè in quanto specie umana nasciamo come onnivori e quindi questo ha rappresentato un vantaggio da certi punti di vista perché abbiamo potuto più facilmente adattarci in termini di specie umana a ambienti molto vari però ha diciamo comportato la necessità di mettere appunto dei sistemi che ci aiutassero a scegliere il cibo da mangiare che evidentemente gli erbivori che pure comunque ce li hanno oppure i carnivori non hanno cioè intendo gli erbivori comunque hanno dei sistemi che li mettono in allarme rispetto alle erbe che possono mangiare oppure no cioè la stringenza per dire adesso un erbivoro non sentirà la stringenza ma non lo so però la sensazione d'allarme che procura l'ingestione di un'erba tossica anche a un erbivoro gli dà un segnale d'allarme per cui l'erbivoro è scoraggiato e questa è un'evidenza quindi che siamo onnivori o che siamo erbivori i segnali sensoriali d'allarme ci riguardano tutti perché non tutto ovviamente fa bene il fatto che si passi diciamo da una dieta così variata appunto quella dell'onnivoro a una dieta invece magari che esclude tutto ciò che ha a che fare con la produzione animale oppure più genericamente non si mangi carne e così via può dipendere da una serie di fattori alcune persone ne traggono grandissimo giovamento ovviamente in paragone a quello che mangiavano prima possono trarre giovamento oppure no il motivo per cui si fanno questi passaggi sono motivi sempre legati diciamo al contesto può essere un'esperienza traumatica può essere un'esperienza illuminante può essere il fatto che lei abbia incontrato diciamo questa possibilità in un momento in cui lei effettivamente ne aveva tanto bisogno cioè pativa evidentemente un suo squilibrio alimentare e si può sicuramente trovare giovamento la riflessione sicuramente da fare è che nei bambini io parlo sempre dei bambini perché sono quelli che secondo me patiscono più di tutti un sistema un po' squilibrato certamente nei bambini proporre dei regimi non variati è qualcosa da fare con grande cautela per una serie di motivi che vanno dai motivi meramente nutrizionali a motivi invece diciamo di ciò che può succedere a livello come dire psicologico cioè quello che non posso mangiare diventa quello che io voglio mangiare a tutti i costi quindi sono diciamo scelte che vanno adottate con grande consapevolezza e secondo me con grande cautela e sicuramente richiedono come giustamente ha fatto notare lei un grandissimo impegno perché bisogna stare attenti a tutto quello che si mangia e garantirsi con un range di prodotti relativamente limitato l'apporto di tutto quello che ci serve sono scelte che quando sono bilanciate certamente vanno bene io ho parlato di produzioni biologiche quando ho parlato dei cibi che vengono considerati i cibi che possono fare bene alla salute allora le produzioni biologiche ovviamente hanno questa valenza positiva perché siamo sicuri che in queste produzioni per esempio di vegetali non vengono usati i pesticidi e così via e questo ci rassicura c'è da dire che anche la frutta i vegetali prodotti in maniera convenzionale quando vengono messi sul mercato comunque di determinati pesticidi e così via devono avere un contenuto all'interno di un limite di legge quindi se noi parliamo in senso molto stretto cioè in termini di sicurezza cioè il fatto che un prodotto ci faccia bene possa rappresentare un rischio per la nostra salute per il contenuto di pesticidi o un altro no in linea teorica stando alle conoscenze attuali i due prodotti sono equivalenti cioè quello biologico è stato prodotto in un certo modo quindi sicuramente alcune cose non sono state utilizzate quello che è stato prodotto per via convenzionale quando viene messo sul mercato passa una serie di controlli per cui diciamo ciò che è stato utilizzato deve essere presente entro i limiti di legge che non rappresentano un rischio per la nostra salute questo per quanto riguarda la sicurezza per quanto riguarda diciamo poi l'appagamento che noi traiamo dal consumo di una produzione biologica piuttosto che di una produzione convenzionale questo dipende dalla valenza che noi diamo al concetto di produzione biologica che sicuramente diciamo ad oggi è una valenza positiva sono altre domande intanto ne faccio una che ho ricevuto via sms ma lo sviluppo di allergie può essere dovuto a magari a una dieta non consona o comunque che non rispetta certi requisiti di mangiare sano e mangiare bene ma non sono io la domanda la persona giusta alla quale fare queste domande stanno arrivando diversi sms con domande di questo tipo alcune non le ho neanche fatte ecco io non sono la persona giusta come ho cercato anche di dirvi fino adesso se a me chiedete che cosa devo mangiare oggi io non sarò mai in grado di rispondervi né sono in grado di dirvi perché qualcosa vi fa bene oppure qualcosa vi fa male quello che io studio riguarda perché qualcosa ci piace oppure no e quello che abbiamo detto fino adesso è che questo aspetto non è un aspetto trascurabile della nostra dieta però domande a carattere come dire medico non sono certo io ok abbiamo un'altra domanda buongiorno un po' la mia domanda si ricollega alla questione del biologico se è possibile volevo avere visto che lei dice che ci sono comunque controlli anche sui prodotti che vengono immessi nel supermercato anche se devono contenere sostanze chimiche però ora rispetto all'inquinamento ambientale noi ora come facciamo a sapere se comunque il prodotto contiene o meno sì potrà essere a norma di legge e corrispondere a quello ma se è stato contivato in un campo assolutamente infatti va a completare la risposta che ho dato alla signora prima è chiaro che la valenza che noi mettiamo la valenza positiva nella produzione biologica può essere legata come dicevo prima al sistema produttivo in sé per sé che si riflette anche sull'impatto che quel sistema produttivo ha sull'ambiente se ti ricordi nelle motivazioni alla scelta le preoccupazioni diciamo di carattere ambientale sono preoccupazioni molto forti quindi che possono anche inibire fortemente la scelta di un prodotto per esempio da agricoltura convenzionale perché la preoccupazione è l'impatto del sistema produttivo sull'ambiente in senso lato ma anche a questa esigenza diciamo si cerca di rispondere perché adesso ci sono e sono sempre più diffuse in etichetta non mi ricordo come si chiama la finger green non mi ricordo comunque è un'etichetta che riporta l'impatto ambientale di quella che ha avuto la produzione di quel cibo sull'ambiente green label non mi ricordo adesso il nome tecnico mi sfugge quindi a questa esigenza qui chi produce è sempre attentissimo a tutte le tendenze quindi cerca laddove le risposte si possono dare con una certa facilità vengono sempre date altra domanda ringrazio dottoressa per la sua votazione la sento molto male secondo me il cibo oggi è peggiorato molto rispetto a prima anche se è cambiata la cultura della persona dovrei dire ci sono tutta una serie di malattie che prima non c'erano e dicono io non ho studiato con la fortuna di studiare quanto è lei e dicono che il cibo ha condizionato molto questa nostra vita negli ultimi 50 anni ho perso dei passaggi fondamentali della sua domanda dunque scusi scusi secondo me il problema che mi deve fare è questa negli ultimi 50 anni l'uomo nella nostra civiltà diciamo così contemporanea il cibo ha condizionato molto tutte le malattie che ci sono ora prima non c'erano certamente non si arrivava alle tracche se ora però il cibo ha condizionato molto l'istenza della salute secondo lei è peggiorato o è migliorato il cibo grazie allora per rispondere in maniera come dire semplice bisogna dire che se noi parliamo alla situazione in termini di malattie legate alla scarsa nutrizione o sistemi di disagio legati alla scarsa nutrizione e pensiamo all'Italia dell'immediato dopo guerra cioè dall'Italia dell'immediato dopo guerra ad oggi penso che tutti dobbiamo dire che situazioni diffuse larghe di problemi legati alla scarsa nutrizione non ci sono quindi se ragioniamo in questi termini la disponibilità larga di prodotti alimentari accessibili per tutti ha avuto sicuramente un effetto positivo lo possiamo leggere in tante cose lo possiamo leggere negli indici che misurano la nostra altezza il nostro peso e così via cioè il fatto che siamo diventati come italiani intendo più alti per esempio tutto questo dipende dall'accesso più largo ai prodotti alimentari più largo per tutti quindi nel complesso diciamo l'aumento della disponibilità del cibo l'effetto è stato positivo cioè situazioni di malnutrizione sono relativamente contenute il fatto che è vero si pensa che buona parte diciamo che c'è un incredibile aumento di situazioni di intolleranza a diversi componenti dei prodotti alimentari una parte di questa di questo fenomeno sembra dovuto al fatto che veniamo a contatto con tantissime cose diverse rispetto alle quali rispetto a prima cioè lo spettro dei cibi a quali abbiamo accesso non solo è diventato maggiore in termini di quantità ma è diventato proprio più ampio in termini di tipo di sostanze che noi ingeriamo cioè se noi pensiamo per esempio la soia tutti i prodotti a base di soia eccetera in realtà sono entrati nella nostra dieta da pochissimo fino a pochissimi anni fa nessuno di noi mangiava con una certa regolarità la soia invece adesso a partire dall'esempio del nostro amico vegano rappresenta un'importante fonte di proteine largamente diffuse è chiaro che diciamo abituarci a questa fonte proteica densa e diversa alla quale non eravamo pronti per qualcuno ha rappresentato qualche problema quindi le intolleranze in qualche modo forse sono legate alla varietà di sostanze con le quali siamo venuti a contatto ma ripeto questo non è necessariamente da leggere in maniera negativa cioè non dobbiamo neanche dimenticare i progressi della clinica medica in questo senso quindi magari disturbi a cui prima non si dava un nome adesso invece un nome si dà allora siccome ho sentito già diverse persone che hanno nominato l'agricoltura biologica ci tengo a fare una precisazione che forse chiude anche un pochino il cerchio i prodotti da agricoltura convenzionale sono controllati a campione quindi la possibilità che un campione sia irregolare è molto alta io mi servo da un grande distributore non gli faccio la reclam ma di cui mi fido moltissimo e sotto i miei occhi sono state ritirate due partite di insalata in due date diverse una perché non aveva superato i tempi di carenza perché l'agricoltore furbo le regole ci sono ma l'agricoltore furbo ancora esiste e quindi è stato ritirato perché c'erano ancora i pesticidi non erano passati i 20 giorni dall'ultimo trattamento sul banco e l'altro incredibile ma vero per piombo tetraetile è un orticoltore nel quartiere 4 qualcuno forse si immagina anche quale che ha i campi di insalata tra i palazzi e i parcheggi e quindi praticamente si accumula per la quota bassa del terreno tutto il piombo tetraetile che viene dall'automobile il biologico allora qual è forse la marcia in più del biologico che invece la certificazione è obbligatoria cioè non è a campione ogni agricoltore ogni anno viene controllato dal certificatore e gli fa proprio le bucce cioè controlla se ha comprato che prodotti quando la data in cui la data quindi ecco ci sono delle garanzie più certe voglio concludere tranquillizzando tutti se passa il piano di sviluppo rurale cioè il programma dell'agricoltura europea 2014 per il settennio successivo come pare diventerà obbligatoria in Europa la lotta integrata per tutti e quindi diventa la questione del pesticidi eccetera diventa un elemento si dice in gergo di condizionalità e quindi non potrà più essere prodotta roba che contenga invece questi residui pena l'uscita dal sistema di finanziamento comunitario e voi sapete se si tagliano i finanziamenti comunitari in Europa non ci sarebbe l'agricoltura perché si vive per metà di quello grazie per l'attenzione un'altra domanda buongiorno allora innanzitutto volevo dire che mi è piaciuto moltissimo quello che ho sentito qui oggi anche se effettivamente ovviamente non parlavamo di sana alimentazione ma parlavamo l'argomento grazie supero l'imbarazzo allora dicevo stavo facendo questa riflessione allora le cose che mi hanno colpito di più sono state queste noi siamo progettati per fidarci dei nostri sensi ma anche la preferenza è poi un processo di apprendimento e ci ha fatto anche vedere come possono essere anche indotte quindi il nostro cambiamento diciamo di gusti eccetera io da questa lezione quello che ho tratto è una consapevolezza che noi possiamo essere facilmente manipolati e la cosa che mi viene suggerita è che questi dati chi ne fruisce maggiormente sono l'industria alimentare che con la scusa probabilmente di conoscere le nostre dinamiche di come anche ci possono diciamo ci introducono degli alimenti che non ci fanno sempre bene perché sono associati a delle sensazioni piacevoli vedi fast food merendine ricche di magari grassi non sani di tante altre cose che poi diventano la cosa che ci piace e la cosa che ci piace è la cosa al fine che non ci fa bene ma non perché era così ma perché è diventato a seguito di un utilizzo di una manipolazione quindi io quello che volevo chiedere era a fa fonte questa è la consapevolezza che ne ho derivato e quello che forse dovremmo domandarci di più è che cosa possiamo fare noi per incidere maggiormente sul processo di apprendimento che è così determinante poi nel mantenere questo nostro elemento così naturale dei nostri sensi come il nostro campanello di allarme cosa possiamo fare per mantenerla sana sì assolutamente sì cioè assolutamente sì cosa è vero l'ho anche detto che di fronte a una apparente varietà di prodotti diversi siamo di fronte sempre allo stesso prodotto quindi su questo non c'è dubbio quindi chi produce e questo l'ho detto anche alla fine cioè che invece i prodotti sani e buoni con la stessa logica con la quale si producono cibi che sono buoni e che non ci fanno bene usando esattamente la stessa logica si possono fare delle cose invece buone e che ci fanno anche bene quindi è solo un problema di scelta sicuramente noi a livello individuale possiamo fare tanto nella misura in cui ci impegniamo a fare determinate cose quindi a livello individuale abbiamo parlato solo dei bambini quindi strategie vincenti per cercare di aiutare traghettare i nostri bambini da un ambiente che sicuramente impigrisce i sensi perché sono bombardati da prodotti tutti uguali facilmente accessibili e così via invece aiutarli e mi sembra di aver dato diciamo delle indicazioni che sono spendibili ma al di là di quello che possiamo fare noi quindi che è aumentare la nostra consapevolezza è evidente che da soli in termini individuali si fa poco perché perché il problema è molto grande quindi il discorso della soddisfazione del piacere dell'aspetto edonistico io torno su questo il fatto che sia stato così sottovalutato ha lasciato ampio spazio alla possibilità che venissero messi sul mercato dei prodotti che invece questo aspetto lo soddisfacevano con grandissimo successo la mia non la mia raccomandazione diciamo la cosa che a me piacerebbe è che cambiasse l'atteggiamento nei confronti della produzione e io lo dico tante volte della somministrazione del cibo ai bambini sono i bambini il target di queste cose noi adulti faccio di nuovo l'esempio del signore vegano se decidiamo di spendere tempo rispetto a che cosa mangiamo abbiamo diciamo ampio margine d'azione il problema è che adulti diventeranno questi bambini e su questo bisogna ragionare questo che significa significa chiedere degli interventi a livello per esempio di ristorazione scolastica che aiutino le famiglie a traghettare i bambini da una preferenza molto limitata invece a uno stile alimentare corretto non so se questo diciamo è venuto fuori molto chiaro da quello che ho detto ma la mia preoccupazione è questa quindi ribadisco io non penso che c'è ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male io penso che esistano degli stili di vita e alimentari che favoriscono un'alimentazione meno sana di un'altra e la ricetta rispetto a questo purtroppo la ricetta da seguire non c'è perché la mia ricetta di quello che mi piace mangiate oggi a tavola funziona per l'1% di voi e non ho risolto nulla perché domani come quello che torna dalla clinica dove ha perso 7 chili voi tornerete a mangiare esattamente le cose che vi piacciono quindi la mia ricetta mangiate questo è un messaggio a raggio cortissimo che non non importa a nessuno non può avere un effetto su fasce di popolazione larghe quello che può avere un effetto su fasce di popolazione larghe è avere l'accesso e riconoscere il ruolo centrale dell'aspetto edonistico del consumo abbinato all'aspetto salutistico visto che questo è un'esigenza ineludibile adesso bene io darei lo stop alle domande se permetti giusto perché ne ho ricevuti diversi di messaggi con questo tenore se puoi ridire qualcosa su come si può fare per vincere le strategie migliori la neofobia nei bambini e a battuta la cito è arrivato un altro messaggio e a un bambino bambino fra virgolette di 33 anni che non mangia neanche un ortaggio che gli si fa? purtroppo al bambino di 30 anni non abbiamo più armi forse ci dobbiamo interrogare su quello che è successo quando è un bambino di 5 le strategie positive va bene cioè su quello che è rischioso fare l'abbiamo già detto quello che può avere successo è nel complesso creare un'associazione positiva fra quello che noi vogliamo ottenere cioè che il bambino assaggi e provi è quello che il bambino sperimenta quindi che l'aiuti a superare la paura del sapore che non conosce quello che non funziona cioè quello che funziona sicuramente è il contesto inteso come ricetta quindi abbinare il cibo che non conosco che ne so quello che volete voi a qualcosa che al bambino piace che può essere un condimento facciamo anche lo strappo non lo so del ketchup della maionese quello che volete voi però se questo abbinamento lo convince e questa esperienza si ripete e nel complesso è positiva come ho spiegato prima a un certo punto la maionese o il ketchup non serviranno più e rimarrà invece la verdura che voi volevate lui consumasse quindi sulla buona volontà e la fantasia delle mamme che meglio di tutti conoscono i gusti dei loro figli bene ringrazio la relatrice Caterina Dinella ringrazio tutti voi mi scuso con le persone alle quali non ho dato la possibilità di fare la domanda però le tante domande dimostrano anche l'interesse che c'è stato grazie grazie grazie